Thomas Prestiani si chiude una settimana importante per te, piena di gioia, dopo la doppietta all'esordio, contro il Vasto Girardi, il gol che chiude la partita qui a Chieti, come ti stai trovando? No, mi trovo molto bene, un gruppo davvero fantastico. Ho avuto un piccolo infortunio inizio campionato, però sono felice di aver trovato questi gol, sia per Coladica che domenica, quindi davvero bene. Ecco, vieni da un'esperienza importante quella fatta a Cosenza, quest'anno hai sordito anche nella Coppa dei più Grandi, il titolare contro la Fiorentina, che cosa hai portato da quell'esperienza nei tuoi compagni nuovi del Castelnuovo? Beh, sicuramente è stata una grande esperienza, che ho raccontato anche loro, mi ha portato, mi ha fatto capire come lavorare con i grandi, come sapersi comportare, come rimanere umile, come rimanere con i piedi per terra e questa per me è la base su cui, diciamo, sto cercando di crescere. A Castelnuovo hai trovato una squadra di grandi allora? Sì, 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 benissimo. Devo dire complimenti a tutti, mister e staff per l'organizzazione, per come mi stanno trattando e come mi stanno facendo sentire. Grazie.